Allora questa è la notizia che riguarda Apple e il fatto che tu puoi scaricare, potrai scaricare le app anche dal sito web quindi fare il sideloading, cosa che ovviamente adesso non si può assolutamente fare e quindi in teoria se applicheranno questo regolamento potranno permettere di pubblicare un'app anche su un sito web quindi non su uno store ma su un sito web dove tu con il tuo iPhone vai sul sito, ti scarichi l'app e te l'installi cosa che puoi fare con Android, però non lo puoi fare con iOS tra l'altro non lo puoi fare perché ci sono una serie di problemi di firme, certificati, autorizzazioni quindi credo che abbiano messo in piedi un qualcosa che adesso non esiste per permetterti di fare questa roba questa roba la puoi fare se tu hai tipo, se l'app la firmi in un certo modo tipo con una distribuzione ad hoc o qualcosa del genere, non mi ricordo più e allora puoi far sì che quell'app sia installata su certi device che però devi dichiarare, insomma non è così facile distribuire un'app iOS fuori dagli store neanche se vuoi distribuirla tra gli amici quindi qua per mettere in piedi questa roba immagino che abbiano fatto modifiche anche al modo con cui l'app viene buildata e firmata come vengono gestiti i certificati ma leggiamo da Roberto Pezzali che ormai è il nostro autore preferito su D-Day quindi dice dopo le modifiche della settimana scorsa arrivano altre modifiche che cambiano e migliorano l'implementazione del DMA da parte di Apple no, sapete, non sto a riassumere è evidente che queste modifiche siano il risultato costante di un dialogo tra i gatekeeper e le istituzioni ma questo dialogo tra Apple e le istituzioni non lo vedo tantissimo comunque lungo lavoro di contrattazione che avviene dietro le quinte per garantire che da una parte siano soddisfatti i requisiti di sicurezza e privacy richieste delle aziende e dall'altra le aperture volute dal regolamento sul mercato libero ora se voi pensate a un paio di news fa che avevo detto che Apple vi impedisce di aggiornare le app se andate fuori dall'Unione Europea per più di un mese le app installate ovviamente da altri store mi pare che sicurezza e privacy non siano esattamente al centro dei desideri di Apple in questo momento se no, altre cose comunque le modifiche aggiornate annunciate oggi sono tre e di questa una è decisamente rilevante le app si potranno scaricare anche dai siti degli sviluppatori senza passare da uno store meraviglioso andiamo con ordine la prima novità è più che altro un chiarimento Apple aveva detto che gli sviluppatori avrebbero potuto lanciare negozi di applicazioni alternative sappiamo per ospitare app di terzi ma ora chiarisce che uno sviluppatore può anche lanciare un negozio di app beh, un app store che distribuisce solo ed esclusivamente app dello sviluppatore stesso senza obblighi verso terzi una sorta di negozio chiuso vabbè, tipo certo Epic Games che fa il suo app store soltanto per distribuire i giochi di Epic Games va bene novità seconda novità uno sviluppatore potrà far scaricare le app direttamente dal suo sito senza passare da uno store questo è fondamentale perché la maggior parte dei negozi chiederanno comunque una commissione per un piccolo sviluppatore che potrebbe non voler pagare ah certo, quindi qua l'idea è se ho degli app store di terze parti non quello di Apple qualcuno che voglia pubblicare un'app su uno store di terze parti potrebbe dover pagare una fee a questo negozio va bene non mi pare però potrebbe essere è bene chiarire tuttavia che questo non si traduce in side load libero il side load è l'installare applicazioni su un device senza passare dallo store dallo store ufficiale o appunto in installazione libera questo è il side load perché le app distribuite tramite siti web dovranno comunque sottostare a una serie di regole infatti Apple autorizzerà solo gli sviluppatori che soddisferanno criteri specifici gli sviluppatori autorizzati avranno accesso alle API che permettono la distribuzione dell'app e lo sviluppatore tramite web quindi c'è una c'è una nuova API un nuovo certificato da firmare insomma da porre in build alle app che è particolare che si chiamerà distribuzione web sì distribuzione web tramite distribuzione web devono soddisfare i requisiti di notarizzazione per proteggere l'integrità della piattaforma come tutte le app iOS possono essere installate solo da un dominio web che lo sviluppatore ha registrato tramite App Store Connect quindi in pratica devi comunque registrare un nuovo dominio come se tu facessi una distribuzione ad hoc in cui registri dei device degli utenti qua in questo caso registri un dominio e allora puoi distribuire un'app attraverso quel dominio vabbè però come faranno a controllare che poi quell'app io non la scarico e la do qualcuno via WhatsApp cioè il download mica ha i metadati di da dove è stato scaricato boh questo non lo so forse perché ci sarà una funzione specifica da iOS che dice scarica qui non lo so però vuol dire che non è una distribuzione libera cioè comunque dovrai utilizzare dell'API del device per scaricare queste app e aggiunge anche che per installare app dal sito web di uno sviluppatore gli utenti dovranno prima approvare lo sviluppatore vabbè chiaramente ah gli utenti gli utenti dovranno approvare lo sviluppatore quindi non solo devi farti approvare il sito e firmare l'app in un certo modo in fase di build ma inoltre dovrai dire vabbè ci sarà un permesso specifico che gli utenti dovranno dare per consentire a questo sviluppatore vabbè in poche parole l'app funzionerà solo se è scaricata dal diretto dominio dello sviluppatore e non se circolerà libera come file IPA IPA è l'estensione delle app iOS che significa iOS app non mi ricordo comunque è il formato di bundle che contiene tutta l'app un binario no è bene precisare che anche se la modalità di distribuzione sarà differente lo sviluppatore che registra questo tipo di app non sarà esente dalla core technology fee ovviamente quindi bisogna pagare bisogna pagare lo stesso la core technology fee è quella tassa nuova che gli sviluppatori di app store di terze parti quindi chi pubblica su app store di terze parti deve pagare a Apple ogni volta per ogni installazione dell'app che supera il milione quindi se tu sei, che so, meta distribuisci WhatsApp solo di terze parti tutte le installazioni dopo il milione dopo la milionesima paghi una fee di 50 centesimi per ogni volta che qualcuno installa quell'app ovviamente si sta parlando di app installate molte volte però insomma è una fee che incide parecchio dice Marino niente APK che girano su WhatsApp no niente APK su WhatsApp però non capisco come fanno a controllare da dove deriva quell'IPA cioè tu prendi un file come fanno a controllare che tu l'abbia scaricato da quel sito tu hai un file da dove l'hai preso che ne so comunque è interessante vedere come in queste settimane sono state fatte molte modifiche e in molti casi l'UE sia pure intervenuta per far fare marcia indietro è il caso delle web app le PWA non le web app e dell'account di Epic Games bloccato da Apple sì questa non l'abbiamo vista ma fa molto ridere cioè in pratica sapete Epic Games sono quelli di Fortnite no lungo litigio con Apple a un certo punto devono essere insomma riportati a bordo perché la vuole l'Europa ce lo chiede l'Europa loro poi dicono anche che creeranno il loro app store di terze parti proprietario allora Apple cosa fa? non sa più come bloccarli e gli blocca l'account di sviluppatore l'account sviluppatore è l'account che tu devi avere su Apple ma anche su Android per creare app che tra l'altro paghi hai una mafia annuale da pagare vabbè gliel'hanno bloccato ora l'hanno sbloccato però perché l'Unione Europea gli ha detto cazzo fate e loro gliel'hanno sbloccato al momento non è mai stata messa in discussione la Core Technology Fee il contributo richiesto per lo sviluppo dell'API della piattaforma contributo che è stato aggiunto anche da Google seppur con una formula diversa vabbè l'abbiamo visto nell'ultimo news c'è un ultimo punto riguarda la pagina che appare a un utente quando lo sviluppatore gli suggerisce di ricarsi su un sito esterno per completare la transazione transazione però non si era pagato di transazione vabbè Apple gli aveva predisposto una serie di template molto anonimi poco accattivanti ora invece lascerà allo sviluppatore la scelta della grafica da usare per poterlo all'utente sul sito esterno qua se ho capito bene si sta parlando di pagamenti quindi adesso è possibile grazie al DMA aggiungere i pagamenti esterni all'app dall'app stessa se tu vai su Spotify vuoi abbonarti il link di abbonamento ti porta al sito solo che la pagina che ti informa di questa roba l'ha fatta Apple era ovviamente respingente per gli utenti perché Apple non vuole questa roba quindi era respingente ora invece ecco sono grafichette più accattivanti pare queste qua vabbè ok Spotify la scorsa settimana aveva mostrato quello che secondo lei doveva essere la grafica adatta per spingere l'utente a non pagare usando Apple ecco questa è la grafica diciamo Spotify custom che vorrebbe fare quindi tutte le modifiche che saranno attive da oggi da oggi oggi perché quando è questo articolo del 12 quindi da ieri e fatte esenzione per lo scaricamento delle app da siti web per questo servirà un aggiornamento a iOS 17.5 chiaramente qua è proprio un aggiornamento del sistema che deve riconoscere le app non tramite App Store ma appunto quelle firmate con questa nuova questo nuovo certificato di distribuzione web Giovanni Apple aveva proposto un template con sfondo nero sì sì proprio una roba sei sicuro di quello che stai facendo potresti far esplodere l'umanità quanti stanno aspettando che Whatsapp che Whatsapp possa comunicare con altre chat per poterlo finalmente disinstallare sì Whatsapp la cosa veramente brutta di Whatsapp secondo me è il web è l'interfaccia quella è terribile ogni volta che apri l'interfaccia web a parte che ti viene male proprio quella lentezza che ha ad aprirsi sincronizza le chat una lentezza infinita che Telegram non ha quindi non capisco perché siano così lenti ma poi proprio tutto l'interfaccia le cose è bruttissimo cioè sono anni luce indietro rispetto a Telegram qua bisogna considerando quanti investimenti può metterci meta su Whatsapp invece che quegli altri di Telegram come mai sono così indietro quindi non so se disinstallarlo l'app per me funziona malissimo ma funziona malissimo tutto è tutto terribile Whatsapp è tutto brutto e nonostante questo loro ci buttano dentro miliardi però non sanno fare le cose bene sono meta oh lo meta si ma poi meta non è che abbia un track record di belle app meta però madonna possono metterci una quantità smodata di denari potrebbero anche fare qualcosa di più bellino ma io dico proprio a livello tecnico che funzioni bene qua non funziona bene comunque qua avevo segnato anche quest'altro articolo diverge che parla della stessa cosa ma fondamentalmente dirà le stesse cose quindi non vado ah però aspetta ci date le informazioni in più tecnicamente per questa roba del developer program per per scaricare le app aspetta dice per installare l'app da un sito di un developer l'utente deve approvare il developer e ok perfetto ma cosa deve fare lo sviluppatore allora lo sviluppatore deve essere nel Apple Developer Program come organizzazione e deve essere vabbè creata domiciliata o registrata nell'Unione Europea e va benissimo va benissimo poi deve essere membro di Apple Developer Program per due anni consecutivi o più attenzione a due anni consecutivi perché non vorrei siccome adesso hanno hanno disattivato l'account cioè hanno sospeso l'account di Epic adesso l'hanno ripreso ma vuoi vedere che gli hanno interrotto i due anni consecutivi e quindi non rientrano più in questa cosa delle web app sarebbe buffo se questa roba l'hanno fatta apposta per Epic cioè l'hanno bloccata e così non sono più due anni consecutivi perché c'è un blocco in mezzo sarebbe buffo e poi avere un'app che ha più di un milione ah ok quindi non è che tutti possono distribuire sta roba su web devi avere più di un milione di installazioni eh pensavi Leo pensavi di crearti la tua app e distribuirla sul tuo sito web nuovo fighissimo no perché non hai un milione di installazioni non sei meta poi devi aprire l'app dal tuo developer account va bene devi rispondere alle comunicazioni di Apple che riguardano la tua app distribuita tramite web distribution vabbè devi essere responsivo con Apple come tra l'altro se loro fossero responsivi o quando sviluppi le app e loro ti fanno la review e ti dicono che le cose non funzionano tu gli rispondi la risposta la tua risposta arriva due giorni dopo no cioè io posso anche essere responsivo ma siatelo anche voi poi devi pubblicare vabbè dati trasparenti vabbè la legge eh richieste governative vabbè fondamentalmente devi essere uno che ha un'app molto grossa membro da più di due anni di Apple Developer Program e non fare cose cattive queste sono le regole di Apple eh vabbè bisogna vedere se entreranno però naturalmente one million installs è un po' limitante eh è un po' limitante ah e vedi lo dice pure qua avere un developer account per due anni può impedire a Epic Games di usare questo di usare questo metodo guarda che se fanno se è vera questa cosa sono dei geni del male cazzo dei geni del male che hanno interrotto Epic Games apposta per non fargli fare sta roba bellissimo bello eh vabbè poi cosa dice attualmente puoi vabbè se sei uno sviluppatore europeo puoi distribuire in App Store di terze parti e pagare 50 centesimi di euro per come Core Technology Fee e questo vabbè e questo è lo sappiamo bello bravi divertente divertente seguire le 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 vicende Apple con l'Unione Europea che poi se voi andate su Reddit a vedere come viene discussa questa roba no sui 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 come si chiamano sui subreddit di Apple di sviluppatori così ci sono quelli americani che dicono tutto bello ma per che cazzo non l'avete applicato a tutto il mondo cioè perché gli Eurobase sì noi no così create due mercati diversi che noi dobbiamo fare un'app distribuirla dappertutto però dobbiamo seguire una regola per gli americani una regola per gli europei perché siete veramente dei maledetti esatto sono piccoli sviluppatori proprio sviluppatori piccoli vabbè pagate sviluppatori piccoli devo pagare pegg inserire di dimenticare